Il filo di ferro, ma è vero questo? Sì, è vero. Mi chiamavano così perché ero un magrolino anche... È difficile immaginarlo, proprio, ombra di filo di ferro. Sì, 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 sì. Mi mangiavo tantissimo, però... Tutto ora, questo per me è un bene. E con Paola è stata una fiongata d'amore, diciamo, perché... Una bella fiongata... E' stata una persona per me importante, fondamentale. Mi ha regalato tre bambini. E siamo cresciuti praticamente insieme. Perché dopo che lei ha finito la scuola, è venuta ad abitare comunitaria, ci siamo sposati. L'italiana ha anche la storia comunitaria. Ma oggi, possiamo dire che, come dicevo prima, siamo italiani.